Noi con gli enti locali, e questo sta partendo in modo già, diciamo, è già così nella legge di stabilità per quanto riguarda i comuni, l'approccio di definire quanto possono spendere i comuni sulla base, da un lato la loro capacità di raccogliere tasse, quello che si chiama la capacità fiscale standard, questo è il termine tecnico, e da altra parte ai costi standard, quindi si mettono queste due a confronto e sulla base di questo si sa quanti soldi in più lo Stato deve dare. Questo approccio per la prima volta, dopo credo si parla di costi standard 10 anni da sempre, in realtà per la prima volta, quest'anno della legge di stabilità, l'obiettivo di costo a cui devono attenere i sindaci, quindi i comuni, è per una parte, quest'anno lo abbiamo fatto solo per il 20%, per gli anni successivi questo per cento aumenterà e in qualche anno arriverà di fatto a essere la totalità dell'obiettivo e sarà basato sui costi standard. Quindi noi siamo partendo da un'analisi dell'efficienza e del livello di servizi, di comuni, di regioni e così via, e sulla base di questo gli diamo gli obiettivi. Dopodiché lasciamo a loro, che sono eletti dai loro cittadini, a rispettare questi obiettivi. I cittadini potranno poi valutare se i sindaci, i presidenti delle regioni fanno bene il loro mestiere, si spendono bene, danno più servizio. Sempre, grazie.